Salve a tutti, io sono un critico, sono un esperto in musica, un musicista dotato di talento e tecnica e putridume in modo da dare l'impressione di essere molto grezzo no, no, no questo è ciò che penso io di Sistema Valdarone in particolare dell'album Viva il Putridume con una sincerità, una schifosissima scorreggia ma di quelle proprio fatte con la batteria, sembra di colpire un gatto investito in strada davvero, non si capisce se quella è una cosa che rovina un po' la canzone, a mio parere Sergio ma quello è un gatto investito con la batteria quella che c'è il coso basso che fai le cose sono tre o l'hai modificato al computer o l'hai modificato al computer dal 98 al 2001 tra quest'album è toxicity oppure l'hai modificato al computer dal 2001 al 98 o l'hai imparato al computer oppure ci hai preso tutti per il culo perché lo sapevi fare male però no, lo faccio benissimo arriviamo così alla seconda traccia no anch'essa fortemente impregnata dal metal inizia con una bellissima entro in batteria davvero, complimenti Giorno Dormeian hai fatto un lavoro fantastico prendi una parte di chitarra, semplifica, distorgi tutto il distorcibile e ottieni le parti di chitarra per quanto poi seguono benissimo tutti gli altri strumenti, si incastrano a perfezione con ogni singola scorreggia fatta da serie di traccia il basso non si sente però, con le poche volte che si sente, posso dire che non si sente con le poche volte che non si sente, posso dire che non si sente davvero fa cagare a spruzzo perché io conosco l'idea, io conosco l'idea e io conosco l'idea O不要��woman